Buon pomeriggio e benvenuti al primo appuntamento con l'informazione regionale di Esperia TV. Siete sul canale 18, 4 tonnellate di cocaina, partiamo subito con la cronaca, per un valore di oltre 800 milioni di euro e 36 persone arrestate. Questo è il bilancio dell'operazione portata a termine dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria, sotto il coordinamento della DDA diretta da Giovanni Bombardieri, che ha impiegato 300 militari in diverse province d'Italia. Vediamo. 4 tonnellate di cocaina, per un valore di oltre 800 milioni di euro. Questo l'esito dell'operazione portata a termine dal gruppo investigativo Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria e dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, sotto il coordinamento della DDA diretta da Giovanni Bombardieri, che ha impiegato 300 militari in diverse province italiane. Oltre al maxi sequestro, ci sono anche 36 soggetti accusati di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, aggravato dalla finalità di agevolare l'andrangheta. Di queste, 34 sono finite in carcere e due ai domiciliari. Centro nevralgico del traffico, ancora una volta il porto di Gioia Tauro, dove operava un'organizzazione strutturata su più livelli, all'interno della quale insistevano squadre di operatori portuali infedeli e persone con grosse quantità di danaro impiegate per importare ingentissime partite di cocaina in Italia. Contestualmente sono state perquisite e sequestrate, per dare esecuzione a provvedimenti cautelari finalizzati alla confisca, beni e disponibilità riconducibili ai membri dell'organizzazione, per un importo di oltre 7 milioni di euro, nonché dell'intero patrimonio aziendale di due imprese, attive nel settore dei trasporti e utilizzate per il compimento degli illeciti. Operazione dei carabinieri, delle compagnie di Catanzaro e Soverato, che hanno dato esecuzione a sé ordinanze di custodia cautelare nei confronti di soggetti che si sono resi responsabili del reato di favoreggiamento e sfruttamento alla prostituzione, procedendo altresì al sequestro preventivo degli appartamenti utilizzati per le attività illecite. Sentiamo Antonio Capria. Avrebbero favorito e sfruttato un giro di prostituzione mettendo a disposizione degli appartamenti e richiedendo per l'uso degli immobili somme di denaro notevolmente superiori al valore di mercato. Sei ordinanze di custodia cautelare sono state notificate dai carabinieri delle compagnie di Catanzaro e Soverato ad altrettante persone, cinque delle quali finita gli arresti domiciliari e una con obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. I provvedimenti sono stati emessi dal GIP del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura ed è stato disposto anche il sequestro preventivo dei tre immobili utilizzati per gli incontri a Squillacelido, Copanello e Staletti. L'indagine, che è stata condotta dai carabinieri delle stazioni di Squillace e Gasperina attraverso intercettazioni telefoniche, pedinamenti e controlli, ha consentito di accertare l'attività illecita degli indagati, ciascuno dei quali aveva ruoli e compiti ben precisi. In particolare, i presunti protettori avrebbero messi in piedi l'attività di prostituzione all'interno degli immobili di proprietà di uno degli indagati. Era lì che le donne erano solite prostituirsi, favorite dal sostegno logistico fornito dagli altri componenti del gruppo che garantivano anche gli spostamenti e quanto necessario per svolgere l'attività di prostituzione. Ancora cronaca, due persone sono state arrestate dagli agenti del commissariato di Condofuri a seguito di un controllo stradale che ha portato alla scoperta di 15 kg di marijuana nascosti nella loro auto e due soggetti originari di Messina con precedenti specifici in materia di stupefacenti viaggiavano a bordo di un'auto lungo la statale 106 e sono stati fermati per un ordinario controllo nel comune di Bova Marina. L'insufferenza mostrata però ha portato agli agenti a svolgere una perquisizione del mezzo scoprendo così la droga. Complessivamente sono stati rinvenuti 15 panetti da un chilo ciascuno prontamente sequestrati e sottoposti ad accertamenti da parte della polizia scientifica. I due invece sono stati arrestati in flagranza di reatro. Pagina politica a questo punto con Domenico Furgiele che è deputato della Lega Salvini riconfermato nelle voto del 25 settembre scorso tratta l'analisi e traccia con l'analisi del voto e parla a crotone della battaglia che vorrà a condurre a favore della Calabria. Prima dunque la prospettiva in chiave formazione nuovo governo e poi il ringraziamento all'elettorato che lo ha riconfermato alla Camera dei Deputati nel voto del 25 settembre scorso. Domenico Furgiele, deputato della Lega Salvini, torna a crotone per fare con dirigenti e simpatizzanti l'analisi del voto. Sicuramente dal ringraziamento della città di crotone che è una delle città più importanti di questo collegio che mi ha dato tanto in termini di risultato politico ma anche in termini di esperienza. Era necessario ritornare per fare un ciclo di conferenze stampa, per ringraziare il territorio e soprattutto per ribadire gli impegni che sono stati annunciati in campagna elettorale e che noi vogliamo portare avanti. Perché c'è stato il calo del voto sulla Lega? Certamente stare al governo, un governo che noi abbiamo considerato di responsabilità e di emergenza nel quale noi abbiamo partecipato con la speranza di poter risolvere qualche emergenza sicuramente non ha aiutato in termini di consenso percentuale. Furgiele rivendica la sua presenza in questi anni sui territori e annuncia l'apertura nel capoluogo pitagorico di una sede stabile, magari allargata all'intero centro-destra. Nel breve, ed è una cosa pratica, quella di aprire finalmente una sede provinciale che diventerà la casa della Lega ma vuole essere punto di riferimento anche per un grande centro-destra che ha dato tanto in questa città, che si è sacrificato e che ha saputo dare fiducia anche ad una persona che veniva magari da un'altra latitudine. Ovviamente cercare di trasformare in atti concreti attraverso l'esperienza che ho maturato nei quattro anni e sei mesi della Camera, le strategie, le metodologie, dare seguito a quelli che sono gli impegni e le istanze che abbiamo raccolto durante la campagna elettorale. E poi sul reddito di cittadinanza, che a giudizio del deputato della Lega ha agevolato il Movimento 5 Stelle, Furgiele sottolinea. Basti guardare il numero dei percettori che si hanno per ogni realtà che è andata al voto e si troverà che il coefficiente di voto rispetto a questo movimento è quasi pari, se non aumentato, ma aumentato perché ovviamente per ogni percettore c'è un familiare, per ogni percettore e per ogni familiare c'è un commerciante che viene pagato con la schedina gialla. Non l'avete votato pure voi il reddito di cittadinanza? Lo abbiamo votato, io l'ho votato convintamente, la mia storia parla chiara, vent'anni di politica fatta a mie spese da imprenditori senza che nessuno mi regali nulla, è una storia di destra sociale, quindi un provvedimento che doveva essere di giustizia sociale, ma che poi immediatamente ci siamo resi conto non stava realizzando quei progetti e quei risultati per cui era stato messo in cantiere. Andamento positivo dell'export calabrese nel secondo trimestre del 2022 secondo Istat, si dice soddisfatto l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo. Vediamo. L'export della Calabria continua ad avere un andamento positivo, lo rileva all'Istat nell'aggiornamento periodico relativo al secondo trimestre 2022. La Calabria segna un più 33,3% che la pone in settima posizione a livello nazionale. Un dato importante che ci fa guardare al futuro non con ottimismo ma con fiducia, in un momento di grande difficoltà per le aziende del settore, per il caro energia, per il caro carburante, per il caro concime fertilizzanti, per questa bolla speculativa che si è abbattuta dopo il Covid sulle nostre aziende che in questo momento devono soltanto resistere. È una strada nuova che noi riusciamo a sostenere anche attraverso un'efficace azione di promozione che fa in modo che cresca la consapevolezza dei nostri imprenditori, che cresca la consapevolezza nei calabresi ma che si faccia conoscere al meglio questa Calabria straordinaria soprattutto nel settore agroalimentare. Il caro energia penalizza tutti, famiglie ed imprese. Sulla vicenda intervengono anche i pasticceri italiani che chiedono interventi immediati per evitare molte chiusure. Vediamo. Non si può attendere oltre. Occorre intervenire con urgenza per salvare il mondo delle attività di pasticceria e degli artigiani italiani. Angelo Musolino, presidente Compait, scende in campo ancora una volta a difesa della categoria. Il caro bollette, il caro prezzi, la crisi finanziaria e tutti i problemi del momento rischiano di far perdere tutta la qualità e la professionalità messe in campo finora, oltre che i sacrifici di una vita. Musolino racconta di episodi quotidiani non più tollerabili, come ad esempio il pignoramento di risparmi personali ad un pasticcere che, per il solo mancato controllo di una PEC, si è visto sottrarre dal fisco somme di denaro dal conto corrente bancario senza avere la possibilità di difendersi e mediare. Da qui il grido d'allarme. Si intervenga per porre argini al rischio concreto di attività storiche come le nostre. Continuiamo ad insistere sulla formazione, sulla qualità dei prodotti, sulle proposte sempre al passo coi tempi e nel rispetto delle tradizioni dolciarie, ma non possiamo più permettere che i fattori esterni ed addirittura lo Stato penalizzi tutto il lavoro. L'intera categoria è in ginocchio. Chiediamo un incontro con il prossimo governo per allineare proposte e stati d'animo di noi pasticceri con le future scelte degli amministratori. Nei mesi scorsi, ricorda Musolino, fu lanciato l'appello sottoscritto dalle 19 maggiori associazioni del settore. Un pacchetto di interventi essenziali, urgenti, indifferibili per aiutare la ristorazione italiana in tutte le sue forme alle prese con questa gravissima crisi sanitaria che è diventata anche economica. Attendiamo risposte, altrimenti la chiusura di molte attività entro qualche mese sarà inevitabile, aumentando la disoccupazione. La quarta edizione delle giornate diabetologiche dalla terra di Alcmeone e Pitagora. Crotone accoglie medici e specialisti provenienti da tutta Italia per fare il punto sulla malattia. L'intento è quello di dare un contributo nel dibattito scientifico che appassiona la realtà medica. Abbiamo voluto fare in modo che diversi esperti ci dicano la loro circa lo stato dell'arte rispetto ad una malattia così importante, con un'incidenza importante, specialmente nella nostra regione. Qualcuno dice che le nuove tecnologie applicate proprio alla gestione del diabete hanno cambiato radicalmente il modo di operare. Sicuramente, rispetto ad un po' di tempo fa vi è stato uno sviluppo esponenziale dell'utilizzo di queste nuove tecnologie che rende il monitoraggio della malattia più semplice ma, se posso dire meglio, più completo e questo permette al paziente diabetico di avere anche contezza dello stato della malattia di cui è portatore. Occasione importante per verificare quanto e come l'innovazione farmacologica ha cambiato la storia naturale della malattia diabetica e delle patologie correlate. Quali sono le prospettive dei team diabetologi in relazione alle nuove tecnologie applicate alla gestione dei pazienti con diabete. Un presente ricco di innovazione, dalle linee guida alla pratica clinica. Cosa succede? È un ottimo momento per parlare di innovazione in diabetologia, innovazione in termini di trattamento farmacologico ma anche innovazione tecnologica nel monitoraggio della glicemia e nella somministrazione dell'insulina. In questi anni, grazie a queste innovazioni, le linee guida sono profondamente cambiate. Quello che manca ancora da fare è nella pratica clinica mettere completamente a terra a quello che le linee guida dicono e l'evento di oggi è un ottimo momento di confronto per poi rendere operativo quanto la ricerca scientifica, quanto le linee guida danno come indicazione per curare i nostri pazienti con diabete di tipo 2. È uno dei centri sportivi più importanti della città dello stretto. Stiamo parlando del Pianeta Viola. Siamo a Reggio Calabria e verrà riqualificato. Pianeta Viola, uno dei centri sportivi più importanti di Reggio Calabria, avrà una nuova vita. Sono stati consegnati i lavori per la riqualificazione della struttura con la speranza che in brevissimo tempo possa tornare a svolgere l'importante compito di supporto delle attività sportive e non solo. Carmelo Versace, sindaco facente funzioni della città metropolitana, ha presenziato alla consegna dei lavori che consentiranno di allestire un cantiere imponente che prevede il restyling di tutti i campi di gara, il blocco degli spogliatoi e dei servizi igienici con l'abbattimento delle barriere architettoniche e tutti i lavori necessari affinché l'impianto possa essere fruibile da parte delle società sportive e del pubblico in assoluta sicurezza. Un'opera di cui il territorio ovviamente aspetta, attende da tanto tempo, non soltanto il mondo dello sport ma anche tutto il mondo dell'associazionismo che vive dei pochissimi spazi che molto spesso la politica nel tempo non è riuscita appunto a offrire in maniera adeguata e il voler puntare questa amministrazione fortemente sulla rinascita del centro sportivo Viola era uno degli obiettivi di mandato dell'avvocato Falcomatà e oggi stiamo proseguendo su quell'opera di programmazione cercando da qui a un anno tempi di realizzazione appunto dell'infrastruttura di poterla riconsegnare ai nostri concittadini. Con il prossimo servizio invece andiamo a Rende dove Sandro Principe, politico di lungo corso, presenta il suo nuovo libro. In tanti a Rende per la presentazione del libro di Sandro Principe, tre colpi al cuore. Avvocato, a lungo sindaco di Rende, deputato per due legislature, sottosegretario al lavoro e alla previdenza sociale, consigliere regionale e assessore, Principe racconta in un libro le soddisfazioni ma anche le amarezze che hanno attraversato la sua vita. Un piccolo borgo sperduto è diventato una città che ha oggi le sue criticità ma ha un impianto urbano, servizi, l'Università della Calabria, una grande area industriale che certamente la distinguono. Una lunga carriera politica spesa tra gli impegni in Parlamento, quelli assunti in Consiglio regionale ed ovviamente l'amministrazione rendese. Dei ruoli che io ho ricoperto e quindi tutta l'attività politica che ho dovuto svolgere per ricoprire quel dato ruolo e poi che cosa ho realizzato nel momento in cui sono assurdo quella responsabilità e questo vale per il sindaco, per il parlamentare, per l'assessore regionale. Un racconto interrotto da momenti più difficili e dolorosi come la vicenda giudiziaria che lo ha riguardato nell'inchiesta Sistema Rende, l'arresto, il lungo processo e poi la soluzione. Io sono stato fortunato di aver avuto una famiglia che mi è stata sempre vicina perché guardate, io ho conosciuto colleghi miei che sono incaffati in vicende come questa, che hanno visto distrutte le proprie famiglie. Nel libro Principe ricorda anche quel brutto pomeriggio del 29 maggio 2004, quando un uomo si avvicina all'allora primo cittadino rendese e dopo avergli stretto la mano gli spara in pieno volto. Sandro Principe si accascia a terra, viene ricoverato all'ospedale di Cosenza per poi essere trasferito per la riabilitazione al Careggi di Firenze. Sofferenze fisiche, una lunga riabilitazione che è ancora dura perché io non mi posso mai fermare, quindi sotto il profilo fisico certamente l'attentato, sotto il profilo morale la vicenda che ingiustamente ritengo di aver subito. Un ultimo pensiero, Principe lo rivolge ad un altro grande amore, il Partito Socialista. E poi sul piano politico la fine del PSI, che è stata la mia casa, che a mia visita è stato un grande partito con una grande capacità di elaborazione che oggi nella politica odierna difficilmente ritroviamo. E ora la pagina dello spettacolo. Un doppio concerto per scoprire il talento dei giovani musicisti calabresi. L'attenzione del Festival d'autunno nei confronti degli artisti della propria terra è sempre stata alta e anche la volontà di mettere in luce la qualità di chi scommette sulla propria passione. Nel chiostro del complesso monumentale San Giovanni a Catanzaro si è respirata l'area delle grandi occasioni con l'esibizione del duo Shamsi e Laura Screnci, vincitori di Next Music Generation. Il Festival d'autunno, ha dichiarato il direttore artistico Antonietta Santa Croce, ogni anno si arricchisce con le esibizioni di musicisti dotati di grande passione e qualità. La seconda edizione del nostro talent ha avuto un ottimo riscontro, divisa in due set, la serata iniziata con Sara Rotella alla voce e Andrea Mellace al vibrafono e marimba, componenti del duo Shamsi. La loro accattivante formula vede la fusione di esperienze musicali diverse, seppur circoscritte allo stesso ambito, il jazz. La voce calda e appassionata di Sara Rotella, i suoi vocalizzi si intrecciano con il virtuosismo di Mellace, che riesce a essere il partner perfetto, sempre pronto a creare le giusterine melodiche senza mai sovrapporsi. La loro esibizione eclettica e trasversale non si è soffermata a una rilettura di standard jazz, a cui i capolavori gli Shamsi hanno aggiunto nuovi classici. La loro visione artistica ha dato spazio a un midley dedicato ai Beatles e alla canzone italiana, che ha vissuto un magico momento con una versione intensa di Il cielo in una stanza di Gino Paoli. E poi, musica italiana, R&B e musiche appartenenti a Musical sono state il biglietto da visita della seconda parte, in cui Laura Screnci, accompagnata da Amedeo Lobello alle tastiere e da Ismaele Rocca alla batteria, ha messo in mostra una grinta inattesa e una voce potente. Ed ora le previsioni del tempo a cura di trebimeteo.com Amici trebimeteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di venerdì, che ancora vedrà alta pressione bene o male sul Mediterraneo e su Italia. Una debole zona di bassa pressione presente sul Mediterraneo occidentale spinge qualche nuvolamento verso la Sardegna, ma in generale ancora tempo bello in gran parte del paese. Controlliamo la nuvolosità attesa sull'Italia. Vediamo qualche nuvola appunto sul Mediterraneo occidentale che si avvicina alla Sardegna e poi delle velature che transiteranno al centro-sud, ma davvero senza particolari conseguenze. Precipitazioni praticamente quasi del tutto assenti nel nostro paese. Le nubi sul Mediterraneo occidentale, ripeto, per il momento si avvicinano solo alla Sardegna, quindi ben poco da segnalare. Insomma, in definitiva, ci attende l'ennesima giornata di tempo bello, con sì abbiamo visto qualche velatura in transito al centro-sud, poi a fine giornata qualche nuvola in più in Sardegna, al mattino presto un po' di umidità in pianura padana, quindi nuvole basse e foschia, ma per il resto gran sole, temperature sempre molto miti, 25-26 gradi di massima. Per sapere poi come andranno le cose nel weekend dalle vostre parti, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo. Bene, tutto per questa edizione, grazie per essere rimasti con noi. L'appuntamento con il TG è alle 17.30. Grazie, arrivederci.